Buongiorno a tutti, ci troviamo a Santa Viola. Santa Viola è un monte qui sopra a Grezzana, fa parte del comune di Grezzana e vicino a Rosaro, sulle nostre prealpi venete, sopra Verona. In questo bellissimo posto è stato eretto dal 1902 fino al 1912 un forte, un forte che ho alle spalle, un forte di Santa Viola. Lo scopo di questa fortezza era quella di coprire, nel caso che un attacco austro-ungarico avesse interessato la parte nord del nostro alto piano dei Lessini, avrebbe fatto da baluardo insieme al forte Masùa e il forte Castelletto per andare a fermare quello che potrebbe essere stata un'invasione della nostra pianeta. Non ha avuto nessun impiego bellico, fortuna era armato di quattro cannoni da 149 in ghisa sulla copertura e forte di una guarnigione da fortezza, era proprio impiegato a sbarramento per quanto riguarda la zona collinare di Verona. Non ha avuto nessun impiegato a sbarramento per quanto riguarda la zona collinare di Verona. Non ha avuto nessun impiegato a sbarramento per quanto riguarda la zona collinare di measurementsi della nostra habían comificato per quanto riguarda la zona collinare della nostra collinare di Verona. Molina cogn個ema dên Babaša alla Università Bon After Pana,